Con il riassorbimento dei lavoratori SATIC si chiude solo una parte della vertenza, lo precisano Antonio Pasqualone della FPCGL e Nicola Ceri della UIL-FPL, all'indomani dell'accordo stipulato a Palazzo San Francesco per il servizio di guardiania che da lunedì passa alla Crea Service, con il riassorbimento dei lavoratori SATIC. Un risultato che arriva dopo notti di occupazione dell'aula consigliare, assemblee e manifestazioni, nonché lunghe trattative. I sindacalisti in ogni caso non abbassano la guardia. Continueremo a mantenere aperto il tavolo di concertazione istituito nell'accordo del 3 giugno, affinché possa essere definitivamente risolta la complessa vertenza dei lavoratori e delle cooperative che si occupavano all'interno del Comune di diverse tipologie di servizi, tra cui back and front office, servizio tributi, ufficiosisme, servizi tecnici, servizi di assistenza tecnica, servizi alla persona, farmacia comunale e sociale, vertenza che, per quanto ci riguarda, potrà trovare uno sbocco positivo solo attraverso il completo e celere compimento del processo di esternalizzazione avviato dall'amministrazione comunale, che non dovrà prescindere dalla completa salvaguardia dei livelli occupazionali, in merito al quale continueremo a sollecitare la definizione delle procedure che da tempo si stanno prolungando e che, se non affrontate in maniera decisa e concreta, provocherebbero una nuova situazione di impasse a cui nessuno, di questo vogliamo essere certi, vorrà assistere, fanno notare Pasqualone e Ceri, che concludono ripadiamo l'utilità della clausola di salvaguardia sociale, per la quale da sempre ci siamo battuti, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, della uniformità di trattamenti contrattuali per assicurare ai lavoratori i diritti acquisiti.